Bentornato Goodlier, bentornata. Continuiamo e terminiamo con l'assemblaggio. Finalmente. Ora prendi il tuo bel monitor, posizionalo sulla scrivania e ruotalo verso di te in modo da poter accedere al retro individuando le varie interfacce di collegamento. Confrontale con i connettori di uscita della scheda grafica. Individua quelli che sono identici tra la scheda video e il monitor. Potrai avere ad esempio la classica uscita VGA, l'uscita DVI, fai attenzione a questa sezione eventualmente del connettore DVI che può crearti qualche problema, visto che ce ne sono diversi. Potrai avere anche l'uscita RCA oppure l'ultimo nato, l'HDMI, quello in alta risoluzione. A questo punto, dopo aver visionato le possibili interfacce, ovviamente seleziona quello di qualità migliore. Ad esempio, tra il connettore VGA e l'alta risoluzione, l'HDMI, naturalmente scegli quest'ultimo, in quanto ti permetterà di sfruttare una visione migliore in alta risoluzione. Ma, tutto sommato, la scelta in questo specifico momento è soprattutto indirizzata in base al cavo che hai a disposizione. Quindi, se hai il solo cavo VGA collega senza dubbio, questo al monitor. In seguito, magari acquista un cavo HDMI in modo da rendere più gratificante la visione ai tuoi occhi. La realizzazione della connessione è molto semplice. Nel caso di un cavo VGA, prendine un'estremità ed orientala seguendo la sua forma. Avvicinala, ad esempio, alla scheda video e inseriscila delicatamente fino in fondo in modo da evitare di piegare eventualmente i piedini. Con la mano o con un giravita in intaglio, serra il connettore alla struttura grazie proprio alle viti presenti sul connettore. La procedura di serraggio delle viti va eseguita avvitandoli un po' alla volta alternativamente. Ripeti la procedura per l'altra estremità del cavo, indirizzandolo verso il monitor, se prima hai collegato l'uscita della scheda grafica. Nel caso di utilizzo di altri cavi con altri standard, sempre ad aggancio tramite delle viti, la procedura appena descritta la puoi ripetere anche per questa tipologia di cavi. Se il connettore scelto non possiede le viti, sarà sufficiente orientare una delle due estremità ed inserirle nella corrispettiva interfaccia del monitor e della scheda grafica. A questo punto prendi il cavo di alimentazione del monitor, quello che dà corrente, e collegalo alla presa al muro, oppure alla ciabatta, o alternativamente anche all'alimentatore del PC con opportuno adattatore maschio-femmina. Prima di accenderlo, però, completiamo tutto l'assemblaggio. A questo punto potrai collegare le tue casse acustiche. Se il monitor presenta delle casse integrate, potrai utilizzare il cavetto di collegamento tra l'uscita audio della scheda madre, di color verde, e il corrispondente ingresso, sempre dello stesso colore, del monitor. Se invece hai acquistato delle casse amplificate, ovviamente la resa sarà migliore. Posizionale ai lati del monitor. Il cavo di alimentazione delle casse collegalo pure alla presa al muro o alla ciabatta. Il cavetto del segnale, quindi quello che hai visto precedentemente, collegalo alle uscite della scheda audio, come hai appena letto. Anche in questo caso, attendi per accendere il completamento dell'assemblaggio. Mi viene da dire che, se hai acquistato il computer per navigare, avrai sicuramente acquistato un modem router. Bene, posiziona il modem sulla scrivania oppure, se hai spazio, sopra il case. Collega subito il cavo di alimentazione alla rete elettrica, ma non accendere il modem router tramite il corrispondente interruttore. Prendi il cavetto telefonico, che normalmente è contenuto nella confezione e collegane un'estremità alla corrispondente uscita del router, che è indicata con la sigla DSL Phone Hotel. L'altra estremità del cavetto telefonico dovrai collegarla ad un filtro. Esso ti servirà per evitare il fruscio che infastiderà verosimilmente le tue telefonate. Specificatamente dovrai inserire questo spinotto nella sigla ADSL o modem riportata sul filtro telefonico. Di norma il filtro non è presente all'interno della confezione del modem router, quindi lo dovrai acquistare a parte, ma comunque il prezzo è di pochi euro. Questo filtro ha la particolarità di possedere un ingresso e due scide. Il cavetto d'ingresso lo devi collegare alla presa telefonica al muro. Una delle due scide ti serviranno per collegare un eventuale telefono e l'altra appunto al cavetto proveniente del modem come appena descritto. Dopo aver orientato gli spinotti, una semplice pressione realizzerà il contatto dello stesso. Prendi ora l'altro cavo presente nella confezione del router, il cavo Ethernet. È simile al cavetto telefonico, ma ha dimensioni leggermente più grandi. Nel retro del router trovi appunto una o più interfacce Ethernet. In questo caso ce n'è una soltanto. Orienta lo spinotto ed inseriscilo nella sede e con una leggera pressione otterrai un clic di avvenuto contatto. L'altra estremità di tale cavetto dovrai collegarla all'equivalente presa Ethernet nel reto del computer. Dato che sai come collegarlo agisci ed attendi per l'accensione del modem. A questo punto dovrai alimentare il tuo computer. È quasi tutto pronto. Devi dar vita alla tua creatura. Nel collegare il pc e le periferiche alla rete però hai diverse possibilità. La cosa più semplice è collegare ogni spina di ogni singolo dispositivo alla corrispondente presa al muro. La situazione però si potrà complicare nel momento in cui avrai poche prese disponibili al muro e molte spine da dover collegare. Se sei fortunato e sei stato un bravo progettista avrai creato un impianto elettrico dedicato proprio per la postazione del computer. Anche in questo caso però potrai avere delle difficoltà di collegamento in quanto alcuni dispositivi sono collegati alla corrente tramite degli alimentatori quindi il cui ingombro diventa abbastanza ampio. La semplificazione ti porta ad acquistare una ciabatta che non solo ti garantisce un numero sufficiente di prese di alimentazione ma soprattutto in termini di sicurezza e consumi se fornita di un interruttore di accensione evita che tali dispositivi rimangano comunque alimentati pur se non utilizzati consumando quindi impropriamente corrente. Cosa altresì importante a favore della ciabatta è che essa evita un surriscaldamento degli adattatori i quali potrebbero con il tempo portare a dei cortocircuiti verso l'escalamento oppure nei casi più estremi incendi. La soluzione ottimale è in realtà collegare tutte le utenze ad un gruppo di continuità che come avrai scoperto nelle lezioni dedicata ti garantisce continuità e stabilità di alimentazione in caso di blackout. Se lo hai acquistato quindi collega tutte le uscite dei tuoi dispositivi al gruppo di continuità. Se il numero di uscite del gruppo di continuità è insufficiente allora collega la ciabatta se è possibile altrimenti acquista o realizza un adattatore che possa collegare la ciabatta direttamente al gruppo di continuità in quanto i gruppi di continuità naturalmente non permettono l'accesso alle classiche spine da muro. Bene sei quasi pronto o quasi pronta a dar vita alla tua creatura. Naturalmente i possibili collegamenti ad un computer non terminano qua in quanto potrai collegare anche in seguito altri dispositivi come webcam, stampante, scanner, tavolette grafiche ed altre ancora. Di norma però questi dispositivi vengono collegati al tuo pc tramite un cavo usb alimentazione a parte e questo collegamento specifico di norma è gestito in fase di installazione dei driver dal programma di gestione dello stesso il quale ti notificherà il momento opportuno nel quale collegare la tua periferica. Quindi rimandiamo i collegamenti quando dovrai installare questi dispositivi. La procedura di installazione di questi dispositivi con collegamento usb è abbastanza semplice in quanto è pilotata perfettamente da un processo guidato chiamato wizard. A questo punto sei pronto o sei pronta per accendere il tuo computer. È il momento topico quindi dalla prossima lezione farai un nuovo salto di qualità. Ora come sempre un forte saluto. Ciao a presto da Carlo e dalla prossima.